cari fratelli e sorelle derasurre sono sempre don cherubino inter mamma mia che settimana di sofferenza che è stata questa è andata bene è andata bene ci è andata bene ci è andata perché soprattutto col benfica dopo il primo tempo eravamo lì della dell'auditorio con i ragazzini eccetera meno male che c'era sordalida sordalida non c'era perché la mercoledì sera c'era donoreste e quindi si sono trattenuti però qualche parolina alla fine del primo tempo è scappata è scappata qualche parolina poi si sono scusati subito perché donoreste stava per partire con lo spattaflone hanno iniziato a dire scusi padre scusi padre si sono messi pure in ginocchio perché san benissimo se parte lo spattaflone del donoreste decollano letteralmente si trovano la cinquina in faccia per tutta la sezione tatuati sono rimangono tatuati una settimana neanche fossero fredde palma con la palmetta qua restano con la cinquina restano ma mica bello è avere una cinquina in faccia anche perché poi magari pensano che l'hai presa da una ragazza e dicono sei stato porcellone sei stato è no l'ho presa da donoreste hai preso la schiaffone dal sacerdote quindi hai detto le parole doppiamente porcellone e fai la figura fai la figura poi meno male non so se è arrivato qualcosa dall'alto vedo oppure semplicemente l'occhio del diavolo l'occhio dell'angelo l'indicatore di zaghi li ha fatti svegliare o magari anche gli stessi compiardi di andrete allora ci diamo una bossa o no ci diamo del gas o no vogliamo fare le figure da curucù sono entrati in campo belli belli carichi un quarto d'ora due gol poi arrivato anche il terzo e naturalmente c'è sempre quello che piange c'è la canzone di cochi e renato e la vita la vita e c'è sempre quello che parte con l'inter c'è sempre quello che piange devono sempre piangere devono ma ringrazia il signore ringrazia che abbia preso la traversa che si vede che era andato via è passato di lì ha guardato un attimo ha visto che erano tra tre ha dato via e infatti abbia preso la traversa perché se restava ancora due minuti la palla andava dentro vincevamo 4 a 3 in stile italia germania e allora sì che piangevi perché eri già a casa eri ma tanto forse sei a casa lo stesso no forse no se vanno a vincere lì contro gli austriaci con un risultato un attimino più carino potrebbero anche riuscire ad andare in europa league vedremo non lo so vedremo perché giustamente la real sociedad non ha pensato bene di pareggiare anche lei pareggia l'inter pareggia la real sociedad però a noi non cambia praticamente nulla dobbiamo vincere tra dieci giorni però una sofferenza ragazzi una sofferenza meno male che sono abituato le coronarie reggono bene sono abituate le coronarie degli interisti sono tanta roba perché sono abituati alla sofferenza sono abituate quindi su quelle delle altre squadre che non sono abituate alla sofferenza loro vincono perdono non è che ci sono via di mezzo noi no noi su noi facciamo i disastri noi stiamo vincendo 2 a 0 perdiamo 3 a 2 perdiamo 3 a 0 facciamo 4 a 3 perdiamo 2 a 0 vinciamo 3 a 2 ne combiniamo di ogni andiamo a vincere in trasferta sembra che noi abbiamo passato il turno poi perdiamo in casa andiamo a casa perdiamo in casa poi andiamo in trasferta vinciamo e passiamo il turno recuperi un 2 a 0 con un 5 a 1 poi non riesce a recuperare un 2 a 1 sbagliando l'impossibile la storia dell'inter è fatta di disastri e l'interista ormai ci ha abituato ci ha abituato l'inter è tutto il contrario di tutto una volta gioca bene pensi mamma mia siamo fortissimi una volta dopo dici ma che squadra non è finita sono spariti cosa è successo poi entrano nella ripresa il siti al confronto sembra la provercelli ma non quella che vinceva gli scodetti quella che c'è adesso l'inter è così noi meno male siamo abituati ma ragazzi mi è adesso stasera c'è perché a quelli la sembrava ormai fatta anche sabato sera vi lascio immaginare meno male c'era sordali da e anche donoreste e quindi gli juventini che vedevano bonza juventus al gol di valentine carboni sono stati bonini sono stati bravini perché se non c'erano loro due mi sa che mi disintegravano di nuovo l'auditorio perché prendere un gol del genere non è bello perché non era di contiro però ragazzi miei sono quei tiri il portiere non sa mai cosa fare perché ti spunta il pallone c'è davanti l'attaccante c'è davanti il difensore che possono spizzarla e tutti aspetti che magari la spizzino quindi non ti tuffi non esci perché magari sei scimale prendi l'attaccante fai rigore e quindi sei lì in stand by come si suol dire aspetti che l'attaccante la spizzi di testa per svolazzare come un uccellino o a destra o a sinistra stare lì a prenderla tranquillamente invece la prende uno la prende l'altro non la prende nessuno tu non te l'aspetti puff gol ce ne sono stati di gol così ce ne sono stati a pacchi nella storia del calcio ragazzi non puoi dare la colpa al portiere solo che logicamente capite al novantunesimo e 30 secondi prendi un gol del genere e poi però ci ha pensato mia o mia o quindi ha segnato bia o attenzione perché settimana prossima abbiamo segnerà ancora non è la sua porta perché lui è così è come quello del cobra kai no quando faceva la sfida finale con con ragazzino che adesso non mi ricordo più era al macchio era l'attore ma non mi ricordo come si chiamava daniel san che faceva al punto e poi si faceva perché gli faceva la borsa che non doveva fare glielo toglievano no e gatti uguale sedia nella porta giusta sedia nella porta sbagliata sedia nella porta giusta sedia nella quindi attenzione se l'avete al fantacalcio settimana prossima non schieratelo perché farà autogol poi se non lo fa tanto di guadagnato però attenzione ma lasciamo perdere le questioni dei non colorati che anche stasera con il frosidone lasciamo perdere gli altri gli scappati di casa ma pensiamo a noi cari fratelli e sorelle derasur allora questa sera formazione quasi 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 tipo perché è donno a cervi a berci giocherà in fascia come ha giocato anche mercoledì sera contro il benfica ha fatto anche un assist perché il gol del 2 a 3 segnato da frattese è arrivato da un suo cross ha fatto il cross e glielo ha messo sul piedino al frattesi e frattesi ha fatto la mezza risulta rovesciata dell'angolino quindi il buona berci sta imparando a fare il terzino sinistro devrai farà il centrale io paura ho già paura perché l'ultima volta che ha marcato si bebbe l'ha steso e ha fatto ha fatto rigore poi meno male zecco ha pareggiato ma non c'è più zecco quindi dobbiamo sperare nella tula e quindi ho già paura che fa rima darmian computer usato sicuro chiamatelo come volete sono tranquillo rientra a sorriso danfris nel senso che non ride mai c'è il bondi marchino che giocherà i suoi soliti 60 65 minuti speriamo riesca a fare almeno un assist qualcosa di buono anche perché mercoledì ha giocato mezz'oretta proprio la sgambatella quindi spero che sia bello carico centrocampo c'è la no grubi chitaria siamo botte di ferro in attacco c'è la tula che sta funzionando sempre meglio certo di là è ragazzi miei è una bella sfida è da una parte turan lautaro e compagnia cantante dall'altra caraschelli osimen politano e attenzione al gol dell'est io già paura io già ho già paura lo do per scontato al gol dell'est ragazzi come dopo è scontato che magari finalmente si debia di segnare barella dopo è scontato che politano farà gol perché è un classico ogni volta che un ex giocatore dell'inter affronta l'inter ma sa vedere quello l'anno quello che con noi ha fatto quattro reti sbagliandole una che segnavo anch'io mercoledì sera ce ne ha fatti tre in una partita anche se devo dire cari fratelli e sorelle da rasurre mi ha fatto piacere vedere una cosa gli avevano portato il pallone della tripletta e lui non l'ha voluto perché ha detto no la mia tripletta non è servita niente quindi non vedo perché vi devo portare a casa al pallone ed è un gesto che qualcuno che viene ancora adesso osannato amato eccetera eccetera dopo che l'inter perse 5 a 4 lui fece la tripletta lo prese lo portò a casa perché a lui che l'inter avesse perso non gliene fregava una beata giovanna interessava aver fatto tre gol e poter portare a casa il pallone io 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 un giocatore così vada giocare a tennis il calcio non fa per lui i giocatori così dell'inter non li vogliamo le prime donne e le miele marce cari fratelli e sorelle della surra no a meno che non sei baradona non sei pelè non sei cruif non sei va baste non sei ronaldo quello vero non quello quello farlocco quello del bravo è però il ronaldo quello brasiliano era altra categoria dunque poi cr7 non è non è così borrioso ecco per intenderci e lo stesso e tu quando vede all'inter era un attimino tutto sgallettato eccetera muridio lo mise subito anche meno ecco quell'altro che adesso in turchia invece io so io io qua io su io giù quindi stia la bello tranquillo segni se riesce e stia la con la sua bionda sempre che c'è ancora non lo so perché lì è cose loro quindi cari fratelli e sorelle della surra stasera è durissima sarà una partita bellissima tra due squadre che giocheranno a calcio e non mettiamo il pullman e vediamo cosa succede quindi sarà come una partita di basket e non di calcio in cui una occasione dalla parte un'occasione dall'altra una occasione dalla parte un'occasione dall'altra e ci si divertirà io resto dell'idea che questa sera ci si ria pacificherà col calcio si vedrà veramente la bellezza del calcio due squadre che giocheranno a calcio e non cerchiamo di fare 0 a 0 e poi se sediamo tanto di guadagnato no vedremo due squadre che si affronteranno a viso aperto ed elizieranno il pubblico del maradona perché il napoli sono dieci anni che gioca così e quindi non si sta a preoccupare vinco perde eccetera entro in campo e gioco e poi vediamo come va se gli altri sono più bravi bravi loro quindi ci sarà veramente da gustare questa partita noi saremo naturalmente del nostro auditorium c'è donoreste c'è sordalida ci saranno solo i tifosi dell'inter più qualche infiltratello con i gufetti perché arriveranno con i gufi ma ragazzi miei ricordatevi una cosa il napoli è la squadra più pericolosa per lo scudetto più di milano e juve io ho questa idea quindi se stasera l'inter dovesse malauguratamente vincere per gli altri è malauguratamente non per me dà un segnale fortissimo al campionato qualora dovesse perdere che ci può stare perché comunque il napoli una gran bella squadra non succede nulla perché si è perso fuori casa contro una grande squadra che poi dovrà venire a san siro quello che vi auguro cari fratelli sorelle del rasur è il caro arbitro massa perché il champions l'ha fatta grossa la partita già vinta dal seviglia sul 2 a 0 è andato a espellere un giocatore dando il secondo giallo per un fallo veniale normale poteva semplicemente redarguirlo e poi eventualmente se ne avesse fatto un altro lo butti fuori non puoi lasciare 10 una squadra per un fallo di gioco quindi siccome è uno che ha il cartellino giallo facile è uno che non ama troppo parlare ma far parlare i cartellini la mia paura è che potrebbe rovinare una bella partita lasciando una delle sue squadre i 10 quando potrebbe evitarlo l'anno scorso non posso dire nulla carica fratelli sorelle nera azzurra gagliardini se ne è andata a cercare ha fatto 5 falli al primo ha fatto finta di niente al secondo gli ha dato il giallo ne ha fatti altri due e gli ha fatto capire al prossimo sei fuori ne ha fatto un altro te lo sei andata a cercare e ci sta però se uno fa due falli tu gli tiri fuori due gialli per due falli che già uno è troppo di giallo anche no quindi bisognerà stare molto attenti perché è un arbitro che aveva tirare fuori i cartellini un arbitro che non ama la gente che va lì a sbraitargli in faccia qualcosa di troppo qui di caro barella da calmati da c'è un capitano che è lautaro va lui a parlare alla non andare te a fare il fenomeno perché se non è un attimo che restiamo in 10 e io questa sera cari fratelli e sorelle nera sur vorrei giocarmela in 11 contro 11 con il napoli perché l'anno scorso in 11 contro 10 ce la siamo giocata fino praticamente alla fine giocando più di un tempo in 10 contro 11 contro una squadra che l'anno scorso era uno schiacciassassi ecco e c'è voluto quel gol di di lorenzo che io ho applaudito perché davanti a una cosa bella anche se me la fa un avversario non posso che applaudire se una cosa è bella è bella ragazzi bisogna sapere essere sportivi se uno fa qualcosa di bello fa un bel gol eccetera anche se te lo fa a te se di applaudire io ricorderò sempre poi dopo vi saluto vi mando la mia benedizione un derby anzi due andate e ritorno all'andata al milan bis 1 a 0 con gol in fuorigioco perché quando arrivò la palla a cacà cacà era in fuorigioco di un metro poi cacà proseguì fece un cross bellissimo e ronaldino di testa fece un gol che non potevi non applaudire lo mise all'incrocio nei pali il povero giulio e césar non riuscì neanche a muoversi talmente preciso perfetti di applaudi però non guarda adullare poco male perché nella gara di ritorno adriano colpì di testa poi la palla gli rimbalzò sulla mano da dentro il movimento era congruo perché lui stava era tutto ingobbito quindi la colpì di testa tutto ingobbito la palla finì sul braccio ma lui non fece nulla per era la palla che andò sul braccio non il braccio che andava verso la palla adesso sarebbe stato un gol da annullare però allora c'era il regolamento ma anche adesso c'è il regolamento che se la palla viene colpita da una parte del corpo e poi finisce sul braccio è sempre involontario quindi la partita finì 2 a 1 per l'inter meglio tre punti per uno che due pareggi che un punto per uno quindi dall'andata rubacchiata dal milan ma annullare un gol così bello sarebbe stato un delitto a ritorno la vinse l'inter meglio così quindi però era per dirvi quando vedo un gol fatto bene bel gol anche se me lo fa un avversario ragazzi miei applauso detto questo cari fratelli sorelle derasurre io vi mando come sempre la mia benedizione speriamo in bene per stasera speriamo veramente in bene per stasera sarebbe importante non perdere così almeno quelli la non scappano scappano sono avanti di un punto sai che differenza tanto sicuramente a gennaio ci staranno davanti perché l'una giornata la saltiamo e chissà quando la recupereremo perché c'è la supercoppa ha deciso di spostarla la dove lo fare a metà mese quando è fermo al campionato non ha pensato bene di farla durante una giornata di campionato quindi l'inter non è che può dividere la squadra in due giocare con magari peggio ancora giocare con la primavera per far contenta la lega che devono fare la partita della supercoppa quindi le quattro squadre che giocheranno la supercoppa non potranno giocare le gare di campionato del 21 gennaio quello che sarà indi per cui l'inter poi dovrà recuperare chissà quando quella gara di campionato e sapete benissimo cosa è successo già nell'anno nello scudetto del bilan doveva essere una partita da giocare a gennaio invece la giocarono ad aprile eccetera eccetera andò come andò con il bilan che aveva due punti di vantaggio e rimase con due punti di vantaggio fino alla fine a cinque giornate dalla fine va vabbè ragasoli io vi mando la mia benedizione speriamo in bene per questa sera e ci vediamo nella notte tra venerdì e sabato quindi il video lo vedrete sabato perché inter udinese si giocherà sabato alle 20 e 45 questa settimana nel mezzo c'è la coppa italia ma noi non interessa perché giocheremo gli ottavi in gennaio non in dicembre così vado vado riferito poi magari giochiamo a fine dicembre non lo so però pare che giocheremo in gennaio anche la coppa italia così mettiamo tutto assieme la coppa italia la supercoppa questo quell'altro la partita da recuperare per metterci in abbasce sono bravissimi va beh io vi saluto ci vediamo settimana prossima amen